Contrastato diciamo avversari un pochettino qui e vedete c'è Pavoni Parliamo dell'Olimpico ancora, lui aveva appena fatto il primo salto nel lungo che gli è stato sufficiente per giudicarsi la gara Partito subito nella prova dei 100, pochi giorni fa dopo 15 anni da queste immagini, che Obeng, il atleta